Ma chi sono i renziani? È un ologramma, non c'è niente, è un vuoto che è riempito dal nulla, non c'è niente, ci sono frasi dette in televisione, non c'è niente, non c'è niente di scritto, hanno disintegrato il lavoro, questo vuol dire disintegrare il lavoro, rendere la vita precaria di tutta la nazione. Una persona che contestava gli avete strappato il cartellone.